Ristretto Italiano Edizione Whatsapp Buongiorno, riuscirà Super Mario a salvare l'Italia per una seconda volta dall'insolvenza? Se lo chiede, con una lunga disamina di ciò che è successo in Europa nell'ultimo decennio, il giornale finanziario israeliano Funder. Nel 2012, leggo, l'attuale premier italiano riuscì a guadagnare tempo facendo acquistare alla BCE di cui era a capo una quantità massiccia di titoli di Stato sul libero mercato, azzerando di fatto i tassi. Ma solo quando arriva la bassa marea, come diceva Warren Buffett, puoi accorgerti se chi è in acqua aveva il costume. E ora che la stagione del bazooka è finita e le obbligazioni salgono, si scopre che le vergogne dell'Italia sono a malapena coperte da un perizoma. Tutto questo per dire, lo dice Funder, che con un debito del 150% e un paese che entra in recessione, anche il genio Draghi si trova di fronte a una missione proprio difficile. L'Italia è in bilico, le riforme fatte non bastano e anche i miliardi del PNRR potrebbero non essere sufficienti. E l'abbandono imprevisto da parte di Draghi al vertice Nato di Madrid non è passato inosservato alla stampa estera. Da Istanbul, Gazzetta Duvar, da per scontata una crisi di governo nel nostro paese, causa divergenze sulla crisi in Ucraina con il Movimento 5 Stelle. Tre ragioni per cui il populismo è in crisi in Italia. Prova a elencarle da Zurigo la Neuer Zurker Zeitung, che dai partiti populisti in crisi esclude comunque Fratelli d'Italia. Prima ragione, la partecipazione al governo penalizza Lega e 5 Stelle che vedono sbiadire il loro ruolo di partiti di protesta. A differenza della Svizzera, spiega l'articolo, in Italia è più difficile essere di lotta e di governo. In Italia i referendum sono più difficili da attivare e comunque gli ultimi sulla giustizia, appoggiati fortemente da Salvini, per il leader leghista sono stati un fallimento. E ancora in Italia c'è il fattore Draghi, un capo di governo molto popolare, sobrio, in grado di rendere evidenti i populismi per quello che sono. Il dislivello fra lui da una parte e Salvini e Conte dall'altra è impietoso. E poi il fattore Europa. Fino a che Draghi sarà in grado di fare le riforme, i rubinetti degli aiuti alla ricostruzione restano aperti e anche per questo allontanarsi dalla maggioranza e abbandonare le poltrone di Palazzo Chigi può non convenire. Il giorno dopo il rifiuto all'estradizione dei brigatisti da quarant'anni rifugiati in Francia, da Parigi interviene Emmanuel Macron, come riferisce Le Figaro. Il presidente francese ha riconosciuto al nostro paese il diritto di processare sul nostro suolo i protagonisti della drammatica stagione dei cosiddetti anni di piombo. «Vedremo se contro questa sentenza d'appello sia possibile ricorrere in Cassazione», ha aggiunto, confermando l'adesione però all'ormai storica dottrina Mitterrand, ma solo per l'estradizione di persone che non siano coinvolte in crimini di sangue. «A meno che non si agisca in fretta contro il cambiamento climatico, le Alpi innevate saranno un ricordo lontano». Lo scrive da Londra The Guardian, segnalando che in Piemonte non solo non piove da quattro mesi, ma anche le nevicate sono state di un terzo rispetto alla media. Ergo il fiume Po non ha potuto godere nemmeno di un normale disgero. Secondo uno studio pubblicato su Hydrology and Earth System Science, continua il quotidiano britannico, il numero di giorni di neve sulle Alpi si dimezzerà entro il 2100 se le emissioni rimarranno ai livelli attuali. Le montagne a 2500 metri perderanno 76 giorni di neve, quasi tre mesi, mentre a quote più basse la neve probabilmente scomparirà e con lei anche le riserve di acqua a valle. In conclusione, sempre secondo lo studio citato, se si riuscisse a rispettare gli accordi di Parigi, il trend potrebbe ancora essere invertito. L'attuale secca del Po, per il momento, è solo un avvertimento, ma molto chiaro. Dalla Germania, la Sösterhandeiger elenca uso dei turisti in partenza per lo stivale le 5 cose da non fare in Italia, quelle per le quali potresti essere multato anche se a te, tedesco, sembrano innocenti. Primo, non mangiare panini, pizze o altro, seduti davanti ai monumenti e sulle scalinate dei centri storici. Non bere in pubblico tra le 10 di sera e le 7 del mattino. Ancora vietetissimo rinfrescarsi nelle fontane, animali compresi. No a sedersi sui gradini di piazza di Spagna, sui quali è vietato anche trascinare i trolleri. E poi attenzione alle quattro ruote. Pneumatici invernali, montati d'estate, possono portare molte dai 419 ai 1682 euro, oltre al fermo della vettura. Tutto questo, naturalmente, vale anche per noi. Vi aspetto domani. Ristretto Italiano di Ruggero Po Ristretto Italiano di Ruggero Po